Ce lo ricorda oggi l'ennesima tragedia al Mediterraneo, dove sono morte sempre alcune centinaia di persone, nel giorno in cui si compie un anno dal naufragio in cui ha perso la vita 800 persone. Pensare è necessario e il cinema aiuta a pensare. Siamo nel pieno di un cambiamento epocale che riguarda le tecnologie come modi di vivere. Il mondo della comunicazione è rivoluzionato e al tempo stesso è divenuto motore di innovazione. Tanti sono chiesti se il cinema sarebbe sopravvissuto ai mutamenti del linguaggio, alla proliferazione dei media e al cambio delle gerarchie dei consumi.